Voilà, eccoci tornati con Gebo che è stato fatto l'HK che a quanto pare noi vediamo che non è molto esperto adesso in questi round Michi si è preso il gioco? Era ora Poi c'è la Python, Michele ha pistola a raggi e Gebo ha canone Zeus e HK Ecco, ti la fai per farlo vedere, bravo Ho dovuto sprecare dei colpi, eh! Mi chiediamo E abbiamo scoperto che la chitarra di Michele si è sfilata a una corda Vedete il gran bel rumore? Un motore Sembra un motore, bene Ho mille punti E Michele si è fermato in mezzo alla mano per osservare il paesaggio tesi Che è che sta facendo le uccisioni? Bene, ci sentiamo più avanti Vabbè, ciao